Pallone a centro aria, colpa di testa, palo e ha segnato ancora Kim Min-jae, 1 a 1, secondo gol in campionato per il sudcoreano. Eccola la testata del numero 3 che esulta subito, si accorge che il pallone è entrato. Con il destro dentro, Biol! Gli HB All! Avanti l'Udinese, il corner di Gerard Eulofeu, il colpo di testa di Gli HB All! Con Menersi le cross in mezzo sul primo palo, colpo di testa a Onana! La tocca ma non ci arriva, il gol di Palomino! Eccolo il ruggito del Gli Stadium per il 3 a 2 dell'Atalanta! Pronto quadrato, parte il traversone, pallone sul secondo palo, colpo di testa di Rabiot, miracolo di Vicario e gol! Si accende il braccialetto di Fabri, la Gone Line Technology dice che la Juve ha trovato il terzo gol, grazie ad Adrien Rabiot! Palla arcuota, Milenkovic fa 2 a 0! Sale benissimo il difensore centrale della Viola e raddoppia! Seconda rete in campionato anche per lui, 2 a 0 della Fiorentina al Ferraris! Pellegrini dalla banderina, palla che gira, Smolling! Avanti la Roma, al minuto 65, con il gol di testa di Chris Smolling! Batte Cialanoglu, deviazione! 3 a 1 Inter, Lautaro Martinez al 42esimo! Non aveva lo spazio per intervenire Skorupski, ci ha messo la testa il toro! Arriba il cross verso la porta! La Fiorentina passa con Nikola Milenkovic! Calcia a Biraghi, la deviazione di Milenkovic! Torna a segnare, rompe un lungo silenzio nelle aree avversarie! Zaccagni dalla bandierina, con il destro, la palla dentro, colpo di testa! Avanti la Lazio con il gol dell'ex di Mati Vecino! Di testa fa 1 a 0! Sono in 6 nell'area del Milan, la battuta di Deulofeu con la palla che gira sotto porta! Ed è subito vantaggio! Dopo un minuto e mezzo, avanti l'Udinese! Ancora Becao, per la terza volta in carriera contro il Milan! Il corner palla, giro! Stacca Kim! E arriva il primo gol in Serie A del difensore sudcoreano! In chiusura di partita, terzo minuto di recupero! Primo gol italiano per Kim Inghie! Pellegrini sul punto di battuta! Va al numero 7, traiettoria, al quattro arriva Ibagnezza! Chi schiaccia in porta e fa 3 a 0 al 61esimo, Roger Ibagnezza! Cross di Barro, forte e teso! Il 2 a 0! Lo segna Ferguson! Proprio contro il Lecce, che tanto lo voleva in estate, arriva la prima cartolina in Serie A Team di Ferguson! Ecco il cross! De Vrij! Dalla Sanf alla Sanf! Si sblocca! Stefan De Vrij, che esulta! È tornato! Nel cuore della difesa, torna anche a segnare! De Vrij! Barberi sul punto di battuta! Lascia l'incarico Pensina! Barberi spazza! E il Monza raddoppia! Pablo Mari! Monza 2, spezia a 0! Minuto 63! Calcio d'angolo, Pablo Mari si trova nel posto giusto, al momento giusto! Grazie a tutti!